Anche quest'anno Campania, Calabria, Basilicata e Puglia tornano a parlare di ciclocross E lo fanno con l'oramai collaudato Mediterraneo Cross Il circuito più importante del sud Italia che già lo scorso anno ha fatto parlare di sé con i reportage dello speaker ufficiale su Scratch TV, piattaforma Sky, canale 222 e su MTB Online il sito di riferimento Percorsi bellissimi con tutte le caratteristiche degne del miglior ciclocross Immersi nella natura, luoghi suggestivi e città che ospitano gli eventi pronti a farvi vivere, anche quest'anno interessanti weekend invernali Il ricco montepremi finale per la classifica di società e quella di categoria, uniti ai singoli montepremi di ogni tappa, rimangono il piatto forte del circuito E allora preparatevi, preparatevi a competere con tanti fortissimi avversari Sì, preparatevi! Il Mediterraneo Cross sta tornando!